Ordine di informazioni di qualità la settimana dell'orientamento alla fine di ancora. Andiamo con noi. Allora, che scuola fai? Come hai scelto la scuola? Sei contento della scuola che stai facendo? Sogno nel cassetto, cosa faccio da grande? Allora, per informarsi su quello che farò da grande, che strumento utilizzi? Tutto. Ok, saluto. Ciao. Ciao.